ciao a tutti e benvenuti su trappistono di come vedete siamo sul computer cosa voglio fare beh oggi vedremo come creare una mappa con roblox studio in pratica come appunto ho fatto un video di spiegazione ci sarà una nuova playlist roblox studio tutorial e la playlist è stata creata e oggi vedremo una cosa basica come creare una mappa dopo bisogna andare su new come vedete innanzitutto possiamo scegliere una grande varietà di specie di giochi tipo hobby runner eccetera e per iniziare la nostra bellissima mappa facciamo base plat base plat l'ho detto bene va bene non importa ecco ci sta caricando ecco explorer in ogni caso qua ci sono tutti gli oggetti che ci sono ad esempio workspace questo è il posto del lavoro c'è la camera il terreno il base plate che sarebbe questo in pratica per eliminarlo basta andare qua delete ecco come vedete è appena scomparso scomparso part qua potete scegliere una di queste quattro blocco sfera wedge ovvero una specie di triangolo qualcosa del genere e cilindro scegliamo il blocco come potete notare ci ha spawnato un part possiamo fare move ecco ed ecco ecco se ingrandiamo vedremo un parallelepipedo più che cubo e grazie a queste frecce la possiamo muovere in maniera abbastanza precisa e se volete girare lo schermo basta stare nel punto tenere premuto tasto destro e vi gira e qua potete vedere da che lato guardate potete o centrare così oppure guardare di fronte insomma è molto utile ha un sacco di strumenti roblox studio in questo caso oltre a move c'è anche schelde che è di fondamentale importanza qui appunto si può si possono ingrandire le cose in questo caso ingrandiamo un po' ad occhio questa piattaforma mentre dopo c'è anche ruota dove potete ruotare con questi anelli solo che stavolta potete in pratica selezionare da che punto e stavolta non è che sia una precisione assoluta perché questo più che altro è per aiutare dopo come vedete è facile mettere un oggetto e un oggetto speciale sarebbe il punto di spawn se andiamo in workspace e facciamo più e scriviamo basta l'S per trovare lo spawn location ecco qua home move e come vedete c'è lo spawn location ovvero dove noi spawniamo per aggiungere ad esempio una sfera il procedimento è praticamente lo stesso è sempre la stessa cosa la possiamo ingrandire home possiamo fare scale ecco solo che stavolta lo scala un po' dappertutto e per di più se facciamo apart questo lo possiamo anche rinominare no allora cut rename possiamo chiamare spawn ad esempio per non confonderli ecco possiamo prendere questo ecco spawn qua possiamo fare copy ehm fare qui ehm copy past int ovvero dentro e potremmo fare un secondo in questo caso l'ho rimpicciolito un po' e lo voglio fare un'altra piattaforma del nostro gioco ecco qua il nostro gioco sempliciotto play play sarebbe gioca appunto con lo spawn location run sarebbe compi tutti i comandi che ci sono mentre play her gioca dove sei adesso con la telecamera e ad esempio in questo caso vogliamo che giochi semplicemente c'è il tastino qua in alto bisogna cliccare una volta aspettare che si carichi laggiù ok e vi carica come se fosse una comune mappa qua ci sono i commenti qua il leaderboard che possiamo anche fare ehm non so tab tab e qua solo che vi dice anche come fare eccetera insomma è completamente uguale ma veramente uguale a quello che ovviamente c'è è per girare la videocamera si può usare le freccine per andare avanti e indietro si possono usare le freccine avanti e indietro mentre per saltare spazio ah e vi chiederete e i blocchi dove sono? beh per capire dove sono dobbiamo fare questa cosa come sapete se cadete nel void sparite ecco che fine hanno fatto gli oggetti perché se andiamo su home vedremo anchor anchor serve per ancorare un oggetto ovvero tenerlo anche se sospeso in aria facciamo un esempio pratico poter fare in modo che la palla rotoli facciamo in modo che questa sia ancorata ma che questa non lo sia e vediamo cosa succede ecco si carica la partita si caricano tutte le cose ecco come vedete questi oggetti non si sono bloccati e come vedete quella palla è rotolata via e perché? perché quella palla non è stata ancorata all'aria in pratica e quindi appunto è caduta con la forza della gravità mentre questi due oggetti sono rimasti sani e salvi e spero che questo video vi sia piaciuto barra tutorial e ci vediamo in un prossimo video ciao ciao